Pronto? Sì, l'ufficio anagrafe? Sì, salve. Senta, volevo un'informazione. Volevo venire a ritirare un certificato di residenza. Come? Per quale motivo? Lo devo esplicitare? Ah, ah no, non sapevo. No, va bene. No, mi serviva perché ho partecipato ad un concorso e mi stanno chiedendo appunto di produrre il certificato di residenza per dimostrare appunto dove sto e poter scegliere il luogo, diciamo, di lavoro. Ma come non è possibile? Ah no, questa non lo sapevo, cioè non si possono più usare i certificati per presentare la pubblica amministrazione? Accidenti. E la norma? DPR 445 del 2000. Già dal 2000? Ah no, no, è stata modificata recentemente. Bene. Quindi io non posso, se ottengo un certificato, ma se lo chiedo lo stesso, cioè se io comunque vengo a chiedere il certificato, ah, me lo rilasciate, ma c'è scritto sopra che non è usabile nei confronti della pubblica amministrazione. Accidenti. Non lo sapevo. E come mai, scusi, questo ente mi ha chiesto il certificato? Ah, sbagliando, eh, ignora probabilmente la norma. E cosa dovrei fare io? Ah, devo autocertificare. E in che modo? Ah, prendo un foglio qualunque, anche a computer, sì. Ok, prendo un foglio e scrivo il sottoscritto di chi era di essere residente e lo consegno. E questo ha valore? Ah, ha lo stesso valore del certificato? Accidenti. E poi, se io dichiarassi un posto dove non sono residente, ci sono i controlli, eh? Certo, certo, certo. Quindi non posso venire a prendere un certificato. E allora per cosa li rilasciate i certificati? Solo nei rapporti fra privati. Ah, banche. Ah, quindi se avvocato, ok, quindi se mi serve, diciamo, in giudizio o nei rapporti con i privati, ancora è valido. E quindi c'è questa addizione sopra che lo rende inutile. Mentre l'autocertificazione può, e posso autocertificare tutto, quindi, oltre alla residenza, anche i precedenti di lavoro, tutto quanto. Ah, benissimo, benissimo. E quanto viene e quanto costa fare l'autocertificazione? Gratis. Fantastico. Mentre il certificato mi costava, mi sembra, 16 euro di marca da bollo e altre cose. Ah, 16 euro di marca da bollo. Ah, no, non era un'ora e mezzo, un po' meno. Va bene, però diciamo, invece di 17 euro circa, io gratis posso fare le autocertificazioni. E ovviamente lo posso spedire per raccomandata. Ah, neanche. E come lo mando? Per email o per PEC? Gratis anche questo? Beh, interessanti questi strumenti di autocertificazione e queste semplificazioni. Ma come mai i cittadini non sanno queste cose? Sì, capisco un po' ignoranza anche nostra nell'informarsi, però, insomma, fossero un pochino più divulgate, magari si userebbero meglio. Eh, questo sì, questo è un piccolo appunto che faccio e comunque io la ringrazio per tutta la informazione. Grazie mille, grazie, a presto, arrivederci.